Ora la notifica, che succede se vedo alle tue spalle, cosa vedo alle tue spalle? Hai lottato contro dei clown? No, io non ho fatto niente Si gioca? Si finisce sto gioco del cazzo? Basta, non ne posso più? Marco, ho appena scoperto che negli uomini ogni 15 kg di granassa persa si acquista bene un centimetro di lunghezza del pene Ehm, è vero, è verissimo Ma non sto sparando io? Oh, ma non ho sparato io prima Ho fatto mira e ho sparato da solo Boh L'hai finito stamattina, Anto? Grande Spacco il culo, struzzo Mori Come richiesto, la regolificazione dell'isola è in corso, armi e altri coggiamenti difensivi sono stati stati per rispiggere tutti arrivati da fuori Quando avremo finito l'isola sarà un'immensa fortezza Quelle difese Quelle difese non reggeranno sul lungo termine ma dovrebbero resistere finché non portiamo al termine il nostro piano Una volta a cominciare la missione Compiuto la missione... Ah, è Krauser che parla Sono molto più vicino allo scopo finale di dominare sul mondo Ma che dici, Jack? Nessuno potrà opporsi alla nostra potenza Eccetto io C'è un bel po' di roba E mira sopra Vabbè C'è un bel po' di roba Dio ti ammazzo aiuto muori non rompere il cazzo suri porco dio tre ore di minchiate 15.000 che bene che l'hanno fatto non ho scritto niente da mezz'ora ma sta zitto li conosco quelli come te tira invece un muccio a mano dicevamo a messina oh che palle i miliardi di governo statunenze sono sperato di fare l'operazione non sia resa pubblica è stata condotta in segreto tutto è cominciato nel 2002 quando una piccola unità delle forze speciali statunenze è stata inviata in un'area del Sud America la missione era rinfiltrarsi e dedicare i cartelli della droga ci sono voluti diversi anni per preparare l'interoperazione ma non mi interessa queste cose non mi interessano ma chi legge i fogli dei posti dove vado? oh sto a dormire avevo rubretta pop up un telefono occhietti chiusi ormai non è vero 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 è vero oh corpus cos'è? mi? e io 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 mi sono insultato mi è stato assicato 100 anni di anni, è il posto perfetto per mettere un endo, ma anche due anni solo. Devo combattere contro Crowther. Guardare quello che ha fatto. Adesso gli ho scopo. Guarda, qualcosa si trova a te ombre. Eh qua si combatte con quel coglione la eh? La piccola chiave non serve più no? I'll buy almost anything. I'll buy it at a high price come back anytime Secondo me è meglio metterci qualche arma Va a togliere questo Ok forse cos'è il buono Ma questo cos'è? Il mio biosensore alla fine non è che serve più non vediamo più di quelle merde vero? Ehm ok ho tutto Tabernelos ha lanciato 100 bits. Bacini Bacini anche a te pazzo Si combatte qua eh? Sì Ho aspettato per te eh Rooki Oh mi preoccupi per la ragazza, è questo? Si È la mia missione di Odo E' la mia missione di Odo Bella Marcolone batti sto pezzo di merda per lui, sì. Lo farò. Alastor, grazie. Bravo! Non sembra che ho una scuola. Eeeh... C'è qualcosa? Non c'è la scuola! Non c'è la scuola! Non c'è la scuola! Non c'è la scuola! Oh oh! Non c'è la scuola! Ehm... Persico trota! Ahah! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Penso che di aver avuto la meglio Coltello da caccia qua dentro Oh meglio Coltello da caccia qua dentro Tu ricordi la combina in la giungla? Non ci siamo arrivati a vivere! Voi con il tuo cuore, non pensi! E' stato la prima cosa che mi insegnavi! Ha diventato questo posto in un grande trap! Non posso combattere sui termini! Oh no no! Oh no no! Che coi! Stronso! Oh oh! Oh no! Oh merda! Figlio di buttani! Eeeh uovo! Oh no no no! Oh no no no! Onde va che ha spada? Il sobra? Alla ok! Alla ok! Alla ok! Alla ok! C'è una tattica coberti, ricordi? C'è un po' di perdere? da diante il villain è Kevin di mamma ho perso l'aereo e tu ti giopesci ce la posso fare? no se tu che mi hai dato male mancato io admito che hai fatto bene per rimanere così tanto io sarei morto se continui ascoltando a persone come te che è morto il reaper viene per i cowards e i careless che sei tu? non so 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. No, 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 non lo merito. Non lo merito per niente. Non lo merito per niente. Ok, è abbastanza Che figo, che figo questo combattimento E tu e me siamo due partenze del stesso corso Credo che questo significa che non ci vedremo eye a eye E tu hai fatto tutto questo E tu non hai capito di farlo Ok, è un poca vita Cosa stai facendo per due anni? Questo è tutto, soldi Per perdere il mondo Per perdere i errori Per perdere i errori Per perdere i errori Non ti scopi Non ti scopi E tu questo? Si stai facendo? Non ci scopi Ci e io siamo due partenze Ehm Ehm Oh, ma non ci scopi Ehm Non ti ho capito? Non ti ho capito? Tu hai capito? Tu? Io prendo questo come un complimento Tu e io abbiamo chiesto un passaggio All'altro che ci resta è percibare Il tutto ciò che ci resta è percibare Ma non è la stessa cosa, Groucher I don't think it counts as well though Oh no, that's all caliber To do what's necessary That's the difference between you and me Time to finish your training That's a mess of the problem I've seen it in a few minutes You've lost it completely, Krauser So that's your true power Oh, I'd ask for a refund No, but what do I do? Dio cane, I'm an idiot 48, 49, I'm going to combine Fai un Jet Pistol, Jet Pistol You've lost it completely, Krauser So that's your true power Oh, I'd ask for a refund Oh, I'm not I'm not oh merda mi ha rotto il curo il cao il cao il cao il cao il cao il cao Grazie a tutti i conti. è ora per il professore essere insegnato oh tu hai una confidazione bravo Rookie sei pronto rio Rookie si oh 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 non 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 No, no... Non è buono, ma stai Non è buono, ma stai Ok, buono wow mi ha rotto il pugnale ah i guess i can't do it i can't do it i can't do it i can't do it oh yeah oh yeah wow m***** m***** always try to get the last word come here i'll beat that out of you you what you have to do you that's right you violentissimo leon violentissimo leon 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 comunque abbiamo perso solamente le munizioni del pompa che possiamo rifare leon il vero mostro sono d'accordo c'è c'è un'erba là c'è un'erba qua ebbe perso nell'Etheris capo che qui non Abbiamo qualche core Ci siamo? Siamo al Penultimo capitolo Stiamo arrivando Andiamo a rompergli il culo Ucidiamoli tutti Take a look Something's bound to catch your eye Welcome What can I do stocking up while you can Wise choice Where you gonna put this Your pocket That cash in your pocket All your life Easy choice It's not working Why does this It's not working Why don't you Why don't you I don't know It's not You can't I don't know Eh, abbiamo un sacco di golpi per il Mitras. Ah, wow, quello di Clouser. Ah, quello di Clouser è infinito? Wow. Allora, let's go. No, aspetta. No, non necessario. Ah, ok. I già più forti del nostro. La tua arma sono in buona mano, io vedo. Questo tipo di lavoro è riguardo a fare finesse, Stranger. La piccola va un po' lungo, tu lo vedrai. Come, tu sei. as you anything else I can help with I'll add this over when you've got the space don't get yourself killed now this will not be enough but I'm sure it will be enough welcome where you can put this your pocket eh porca madonna muoviti che cazzo di bug idiota ma che schifo vuol dire manna alfadonna so I don't support anything mamma mia porco mio vabbè ok delta welcome what you're buying if you want ma in realta questa qua è buona perchè possiamo spiegare i proiettili di di mitraillus questa pure abbiamo venti proiettili va bene eh non la trovo per niente giusto ero là dietro ciao lordax il mitra fa cacare l'importante è impiegare quelle cose che abbiamo oh 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 ma che cazzo oh merda il nostro micho yeah yes yes let's go let's go I'll give them what they came about oh merda no 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 I'm carrying it carried it? no okay okay let's go 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 wow keep playing let's go andando a cercare andiamo non ho più tesori ricordavo di avere qualche tesorino ricordavo di avere qualche tesorino ecco 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 fuori è il momento ragazzi ecco 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 No! 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 I can't see you! I can't see you! che vende so io, che vende so io oh merda wow 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 oh che sto oh 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 alto oh 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 E' un'altra cosa. Senza cattiveria ha lanciato 100 beats. We markow. Ciao bello! Ho fatto un giro del cazzo. E' un giro. 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 Ciao Marco. Anni fa ci siamo beccati al kebab di Cassano Dadda. Posso chiederti quando esce il video? Ricordo benissimo. E' un giro. E' un giro. E' un giro. E' un giro. Oh! Oh! E' un giro. 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 non ci aiuta più il tizio non ho più munizioni è vero Sì, sì, sì. oh Wow wow wow, I knew it Oh man, he's dead, he's dead, he's dead Vissa per ostavarti, che per un battimento Let's go, we're coming Let's go Let's go Oh merda Ma chi cazzo era? Non ti sapevo da un po' No, sono youtube ma la camera con le mura di legno fu molto abbraggianti, che c'entra proprio? Vede Arios ha lanciato 300 bits, Marco sei un buddace Oh merda Oh merda Give me a break already Oh merda 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 no 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 oh no 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 stop that right no 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 il tuo cazzo non ho l'alto bench ahi no 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 tragate esto you're serious Morì L'intercomunizioni Oh, ok Ci siamo Sì, grazie Quando riusciamo da qui, i minacci sono a me Allo, ciao 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 Allo Dammit Oh, no 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 Mike Mike Sanna 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 Mannagia Poverino l'aericottero Oh, perfetto Annienta queste bestie schifose Le ho ammazzate tutte, tenente E quello? Sto messo malissimo Sì 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 Il bastone reale E dov'è? Ma È un oggetto chiave? Sì Ho abbiamo Di vuoi con il singolo medaglione blu? ok beh sono tutti qua no? ma sono dietro è dove cazzo? è dove? non c'è C'è un po' di più. 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 Dopo tre di linea di dialogo di Leon. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Bingo. E poi... Eh, i originali. Perché qua non piace tanto. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Eh, who the hell are you? Ah, Ramon. Un po' di più. How's che il più grande è, non lo so? C'è un po' di più grande. Come si non ne può essere. E non è così. È un po' di più grande. È un po' di più grande. ecco non c'è ne uno qua dove c'è? non c'è ne uno qua ma sarà sopra? no thanks bro l'ho visto non c'è qua non è il muo finito quale nooo non lo sapevo no è finita non ho quella robba non ho quella robba è finita è finita non non è finita no e come cazzo faccio adesso? come cazzo faccio? è finita è finita what the ma non si è attivato? non si è attivato? no no perfetto no non lo da care si è finita No no 3 su 1 go no 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 andegati 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 non c'è un serpente eh sei chiusa subito o sbaglio Ho rotto il campo! Dove sono di solito i punti? Ma cambiano! Ah, mi ero pure saltato questo! Ah, mi ero pure saltato questo! Un po' di più! Un po' di più! Un po' di più! Un po' di più! Viperus! Che! Che! Ehi bai Stranger, I heard you took care of that last request. On behalf of my compatriots, I thank you, friend. On behalf of my compatriots, I can't wait for my compatriots, I can't wait for my compatriots. Oh my god, I was waiting for you. Welcome, what can I interest you in? Stranger! Stranger! Oh, I'll come back, anytime! Allora, questa merda via. Ragazzi, è il momento di portarci la Killerset e la Broker Butterfly. Per gli ultimi boss, no? E di potenziare la Killerset. Knife needs care every once in a while. Could be this kind of work is about finesse. Stranger, pleasant travelers. I have 10 munitions of Magnum. So in everything we have... Eh, we have a lot of Magnum. I don't know. I don't know. I don't know. Come to do some shooting, have we? Relay too much on a single weapon and you'll find yourself out of ammo, mate. I don't know. I don't know. But we still have this. Oh, oi! Where are you off to? It took me 80 to set this up. This is what you have done with all the weapons, but you can't go anywhere. A posto a posto. Why not treat yourself, mate? Okay. Alright. Almost there. Ashley. I'm coming. Let's go. Let's go! Let's go! a cubierto a cubierto a cubierto a cubierto ho spaccato la freccia e anche a cubierto 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 Grazie a tutti! 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 No 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 no! Horribile Sono un idiota Ah Mamma mia Non una Quattro Poi Poi Non Poi legs Guttiamo il cazzo Porco di dio Non l'avevo visto Ma che cazzo era Vabbè No Cazzo C'è qualcuno che li tacchia Qua dentro Ma che distrattino Si hai ragione C'è un gigante C'è un gigante qua vicino 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 Il muore E' pappanculo Ancora? Puttana! Devi sparare di dentro Ho capito solo ora alla fine del gioco Bene Ok Ok Mhm Ashley, dove cazzo sei? È lei? È lei? Ashley! È lei? È lei, mio figlio. Ma cosa vuoi? È lei solo di comprare questo amico. Con tantissimi possibili. È un amico, non pensi? Vedete, tutti siamo collegati a corso di un corpo. E ora, ii dimenticati, ii dimenticati, ii dimenticati, sono già una con noi. Cosa! Perché ti sorgono la serenità, quando ti devi solo accettare il dono? Come... ...dia. Suttler! Ah, sì, il tempo è arrivato. Come... ...dia, leon, per un'ottima, leon! ...dia. 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 Go! ...dia! ...dia. 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 mentre Dio sono... Grazie per l'abbonamento Ma io ricordo che c'era un segretino Nella mappa c'era Speriamo che non ci sia qualsiasi nemico Merda Che cosa è? Cosa, c'è il mio Cosa, c'è il mio Cosa 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 sta messo malissimo è pieno è pieno è pieno è pieno La chiave, la chiave di Luis La chiave, la chiave, la chiave 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 La chiave La chiave, la chiave Ashley La chiave La chiave La chiave La chiave La chiave Sì, sì, ho fatto questo. Hai capito? È una mappa? Sì, ho trovato. Credo che possiamo andare fuori se andiamo in questo modo. Sì, siamo una squadra, certo? Sì, guardate questo, sarò fuori un lavoro. Allora, tutto questo? Usa i parasiti? Questa è la settimana? Ah, guarda! C'è Luis là in mezzo. Umbrella Corporation. Sì, siamo vivi. Grazie a lui. Vabbè sì. Sì, sì. 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 Non ti interessare? Eh vabbè, sono gelosa del cazzo. Dimmi tutto Ashley. Voglio quel cazzo di tesoro, qualsiasi cosa sia. Ah, va la. Muori. No, le ho perse tutte. Le ho perse tutte, cazzo. Il ciondolo illuminato. Fa fuori una mia fede, ecco di... Scusate, qui mi viene in tutto. Vado a mazzatelo. Si fa bene coglione. Allora, i sacri insetti, siamo i miei subitori di Dio, vabbè. Un po' di raid ci vorrebbe qua. Hai, ha, 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 ha. Qui ci va, ci va? E? Ci va qua? Ah, ci va qua? Oh... Oh, svolta. Mi? Dove cazzo si va? Oh, Danieli Toz, grazie per l'abbonamento. Grazie per l'abbonamento. Grazie. Dobbiamo andare da quella parte. Ma come si fa? Ah, si dirà. Ah, è citto. Muori. Oh, merda! Suntana. Troia. Questa è l'ultima oltra e lo vediamo. Questa è l'ultima oltra. È la fine. Chiave di Luis, ciondolo, lacrima. Sblocchiamo quest'ultima cosa. Oh, ma bebe. Eh eh eh. Bu hava. Bu hava. Bu hava. Bu hava. Bu hava. Bu hava. Quanto d'oro? Eh? Quanto più d'oro? Siamo iniziando ad ottenere un'idea delle vostre mani, amico. Possiamo vendere tutto, no? Un accordo bene, eh eh eh. Qualcun altro che posso aiutarti con? Non ti... Hai te stesso morto ora! Quindi... La mitraglia non serve più. Possiamo togliercela dalle palle. Via. Secondo me anche le frecce. Sono state delle compagne irriducibili, ma... Addio. Uno, due, tre. Ok. Bazooka, vieni, vieni qua. Ehm... E basta. Siamo pronti. 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 Come sono pronti. Siamo pronti, come dire. Che cosa sembra meglio essere subito ben preparato? Aspettate. punti qua ma io avete il tempo. Governor. 17 Cazzo nel culo E allora è meglio Questo Bene Il dire di potenziare Ancora una volta La chiesa 7 Arrivo al massimo della potenza Se sei solo in quest 47 mila Beh io venderei La carabina Che non ci serve Il lancia frecce Merda Addio Abbiamo tutte E la mitraglia Beh ci siamo All by Non si serve La black tail non ci serve del rubezor a ti io well struck no I don't need care every once in a while could be no difference between life and day try that on for size see how don't get yourself killed now ci siamo ci siamo questa la mettiamo qua e questa la mettiamo qua e questo la mettiamo qua questa roba qua è fortissima ragazzi è arrivato il momento quanti colpi hai lanciati? uno solo ma uccide qualsiasi cosa questo è un po' questo è un po' Oh, non! Eida! Penso che lei va riuscire a me. Restai qui, non ci sarò lungo. Ok. vabbè è morto facciamo il culo oh oh è il momento Oh merda Mi ha rotto il culo Mi ha rotto il culo Ok uno giù Due giù Oh yeah Beccati questo maledetto figlio di puttana Muori Ce l'abbiamo fatta ragazzi Oh oh Bellissimo che figo Oh merda ma dove siamo Oh Oh I need to cut this date short It's not me It's you Whoa Don't carry it 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 Whoa Use this Ok lo uso Dillo Leon dillo dillo Let's go Let's go Get Let's go Ida, cosa stai facendo? Non è personale, Leon. Luis e io abbiamo un accordo. Non ti preoccupi, io prendo bene. La modalità segreta. Certo. Lo vedo. Better get him move on. Sì? andiamo 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 ok let's get out here non mi serve neanche salvare oh non mi serve però beh stiamo benissimo non abbiamo perso niente no problemo oh 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 Andiamo! Tu dov'ai amato questo! Let's go! Dove andresisto da estera, facciamo testa! Oh 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 Merda Merda Oh 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 Dovevo accelerare? Ok Non avevo visto il tempo Che vergogna La parte più stupida del gioco è perdo Oh no Vabbè Ti piace le drill bites? Mi piace Ti piace questo Hold on 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 Hold on